In un periodo di forti ristrettezze economiche, il basket Lemuria ha deciso di scindere l'attività della prima squadra dal settore giovanile. Nascerà così Lemuria Spring, la società satellite dedicata allo sviluppo del settore giovanile, che avrà la sua formalizzazione dopo il consiglio FIP di metà luglio. I due concetti alla base di questo fondamentale passo saranno la continuità e il consolidamento del legame con il progetto principale e la volontà di valorizzare e potenziare il patrimonio delle giovani tesserate. Lemuria Spring garantirà alla società madre l'intera copertura del settore giovanile e il pieno rispetto dei complessi adempimenti imposti dalle normative federali. Avrà autonomia gestionale e si assumerà la responsabilità amministrativa, economica ed organizzativa del progetto, mentre sul piano sportivo formativo ci sarà una costante collaborazione tra rispettivi staff tecnici. La nuova società avrà un doppio staff, uno organizzativo, formato principalmente dal presidente Massimo Nerini e dal dirigente Luca Filippetto, l'altro sportivo affidato a Federico Filesi, allenatore nazionale e responsabile tecnico, e a Giuseppe Piazza. Il presidente Rodolfo Cavallo fa notare come la nuova conformazione societaria sarà particolarmente importante per dare garanzie temporali al progetto e la base per il reclutamento, inteso come risorsa per tutto il movimento di domani. Per il neopresidente Nerini, l'impegno delle Lemuria Spring sarà un valore aggiunto anche per la prima squadra, oltre ad un trampolino di lancio per le giovani atlete.